Va bene, ancora buonasera a tutti. Questa è l'ultima sessione fisica della giornata di oggi del Festival di Informatici Senza Frontiere. Abbiamo qui con noi il direttore del Dipartimento di Informatica dell'Università di Bolzano, il professor Francesco Ricci, che parlerà del futuro, ma il futuro è neanche tanto, quindi l'intelligenza artificiale con i problemi legati ad esso. Poi non parlo io, lascio la parola a lui, per cui grazie di essere venuto e buon ascolto. Mi tolgo la mascherina a questo punto, prendo il gelato e vi parlo con il gelato. Allora, non sono più il direttore di Dipartimento, noi ci sono ancora le facoltà, ero il prese di facoltà fino alla fine di settembre, adesso sono un normale professore. Allora, prima scusa, prima ancora di iniziare a parlare mi devo scusare, perché i lucidi sono in inglese. Allora, non vi preoccupate, l'inglese è molto semplice, ci sono un sacco di immagini, non ci dovrebbero essere problemi. Se ci sono problemi, alzate la mano, fate delle domande, spero di fare un dialogo con voi abbastanza interattivo. Di cosa vi voglio parlare? Allora, io voglio parlare di questi recommended systems e vi voglio parlare dei problemi legati all'utilizzo di questi recommended systems. Però io sono un professore, come molti di voi, e qui farò anche una lezioncina, insomma, farò una lezioncina perché voglio anche spiegarvi come funzionano. Perché ritengo che per capire, diciamo, i problemi legati all'uso di questi strumenti bisogna anche avere una comprensione del loro meccanismo, perché ci aiuta poi veramente a capire i problemi che hanno. Allora, senza indugiare ulteriormente, questi sono gli aspetti che vorrei affrontare oggi. Quindi vorrei farvi capire perché sono stati introdotti, o almeno alcuni dei perché, perché ci sono tanti perché, ma il problema della scelta, il problema della scelta è in internet di prodotti, la scelta di informazioni, cosa fare, cosa leggere. E quindi la nascita di questi sistemi recommended systems, che sono ormai sul campo da una ventina d'anni, però la ricerca su questi strumenti è ancora molto attiva, molto vivace. Pensate che abbiamo finito, qualche settimana fa, la conferenza annuale su questi recommended systems, si è tenuta a Rio, si doveva tenere a Rio, in realtà si è tenuta online e c'erano mille partecipanti. Quindi su un settore, pensate, di nicchia. Quindi vi parlerò di questi sistemi, di come questi sistemi modellano le preferenze delle persone e soprattutto come sono valutati, perché capendo come sono valutati, capiamo anche come sono ottimizzati, cioè come gli algoritmi sono ottimizzati per ottenere il risultato che si vuole ottenere. E poi parlerò di alcuni problemi legati all'uso di questi sistemi, cioè il problema della privacy, il problema della mancanza di diversità nelle informazioni che vengono presentate e il problema dell'equità, fairness, non so veramente come in italiano è il modo migliore di tradurlo, lo chiamerò equità. E allora iniziamo a parlare di una cosa che è davanti a noi. Andiamo al supermercato e ci sono per gli stessi prodotti scelte in abbondanza. Ma non è solo un problema del dentifricio o della pasta asciutta che dobbiamo comprare. Ormai siamo immersi in un meccanismo in cui dobbiamo scegliere tutto, dobbiamo scegliere anche come curarci ormai, perché non è più il dottore, il medico che ci dice cosa dobbiamo fare. Siamo noi che autonomamente dobbiamo informarci e decidere come curarci o dobbiamo decidere come pensare al nostro futuro pensionistico. Quindi sono delle scelte complicate. In questo scenario in cui abbiamo scelte complicate, qual è la situazione per il nostro stato, per il nostro stato di benessere? La logica vorrebbe che se abbiamo più scelta siamo in una condizione migliore. Se c'è più scelta, se abbiamo tre prodotti da scegliere invece di due, è più facile che troviamo il prodotto che fa per noi. La logica direbbe più scelta, più facilità di trovare il massimo per noi. E quindi questa possibilità di scegliere il prodotto migliore o l'informazione migliore ci dovrebbe fare star meglio. In realtà, e questo è il paradosso, è che in tutti gli esperimenti che sono stati fatti, aumentare il numero delle opzioni non migliora alla fine la soddisfazione di chi ha fatto la scelta, ma in larga parte lo peggiora. E perché questo? Cioè, pensiamoci perché. Perché noi veniamo da questa mentalità in cui le persone hanno delle preferenze, no? Hanno, come dire, dei desideri, degli obiettivi. E davanti a noi c'è un mondo che ci offre queste opzioni. Allora noi, in base alle nostre preferenze, ai nostri desideri, cogliamo, come dire, l'opzione che ci piace di più. Ma questo non è vero in questo mondo in cui viviamo. In questo mondo in cui viviamo, il mondo digitale, le scelte e le preferenze si costruiscono in maniera, come dire, interattiva. Creiamo delle dipendenze, creiamo delle preferenze, solo per il fatto stesso che mostriamo delle scelte, mostriamo delle opzioni, mostriamo delle informazioni, mostriamo dei nuovi prodotti. E quindi questo rende difficile, effettivamente, fare delle scelte e non rende più, diciamo, utilizzabili dei meccanismi, diciamo, che sono stati sviluppati negli anni passati, in teoria delle decisioni, che pensavano a un meccanismo molto semplice. L'uomo ha delle preferenze, le opzioni, ci sono una funzione di utilità e lui massimizza la sua funzione di utilità. Non è più così. E non è più così e si sta creando una situazione in cui, e questa è, secondo me, la cosa più interessante, per cui tutti i grossi player dell'internet stanno creando dei meccanismi per cui non devi neanche tu decidere su cosa vuoi informarti, cosa vuoi sapere. È tutto automatico. Cioè, i post su Facebook o su Instagram non siamo noi che li scegliamo, è un algoritmo che li sceglie. Anche i motori di ricerca stanno calando nell'utilizzo, una volta venivano utilizzati di più, il motore di ricerca richiede la query per funzionare, ma si sta vedendo che l'utilizzo dei motori di ricerca sta calando, invece incrementano le fonti di informazioni che sono automaticamente costruite da questi algoritmi, in cui noi non scegliamo nulla. Non scegliamo nulla e inoltre, avendo questa offerta, iniziamo a costruire delle preferenze sulla base di queste offerte che ci vengono mostrate. E qui entrano questi recommender system. Questi recommender system, di cui vedremo appunto qualche esempio dopo, sono stati pensati appunto per rendere questo meccanismo di scelta ipoteticamente più facile per l'utente finale, per noi stessi che andiamo su Amazon, che andiamo su Netflix. Quindi fornirci delle scelte adeguate al momento opportuno, rilevanti, ottime, e che possono anche ridurre il nostro costo di cercare le informazioni. E questo è quello che succede appunto in Amazon, dove immaginate abbiamo tutti noi raccomandazioni. Qui è chiaro che queste sono le raccomandazioni per me. È chiaro che sono rilevanti, sono libri che io sarei interessato a leggere. Però ovviamente io potrei essere interessato a tante altre cose e loro hanno un canale che pur largo è ristretto e viene determinato dagli algoritmi di cui parlerò. Questo non è una parte marginale. Cioè in Amazon c'è un largo numero, diciamo, di ingegneri che lavora solamente su questo, su come costruire queste scelte di prodotti personalizzati che vengono inviati all'utente. Stessa cosa su YouTube. Nel YouTube c'è il meccanismo di fare la ricerca. Cioè io posso qui fare la ricerca di questa pianista, però oltre ai filmati relativi a questa pianista me ne vengono suggeriti tanti altri che sono connessi come sulla base di un algoritmo che ha fatto delle previsioni su quello che potrebbe anche interessarmi, di cui parleremo appunto dopo. E quindi gran parte ora dei click su questi strumenti non è determinato da quello che noi vogliamo fare, ma è determinato da quello che l'algoritmo ha deciso che potrebbe essere interessante. Quindi capite che è una cosa molto importante. Cioè questo determina cosa vediamo, determina a quali informazioni veniamo esposti. Netflix, stessa cosa. Qui c'è un repository di milioni di filmati, solo pochi vengono mostrati attraverso questi strip che sono apparentemente costruiti in maniera semplice perché dicono sono quelli che sono stati recentemente introdotti. Sì, ma recentemente introdotti, Netflix ne introduce tantissimi ogni giorno. Quali deve mostrare a te? Quelli che ovviamente ha calcolato che possono avere più efficacia e possono essere più interessanti per te. Bene, allora a questo punto partiamo con la lezione. Questa è l'introduzione e cerchiamo di capire ma com'è che funzionano questi oggetti? Fondamentalmente funzionano in tre passi di cui parleremo oggi. Una prima fase che è di acquisizione di informazioni da parte dell'utente. Quindi acquisizione di quelle che vengono chiamate le preferenze o i comportamenti dell'utente. In una seconda fase c'è il famoso algoritmo, l'algoritmo che usa le preferenze, usa i comportamenti per fare delle deduzioni, delle inferenze. E poi c'è una terza fase in cui tutti questi potenziali candidati vengono poi filtrati da un ulteriore filtro per determinare quelli che sono effettivamente mostrati. Allora, preferenze. Com'è che funziona questo? Beh, qui siate, diciamo, oltre alle preferenze questi sistemi tendono anche ad acquisire delle informazioni precise su di noi. Per esempio, dove viviamo, qual è il nostro sesso, o qual è la nostra religione, o qual è la nostra anche personalità alle volte possono essere interessati ad acquisire. Il meccanismo di fare l'elicitazione di queste preferenze è che tipicamente ci sono questi ratings, ormai li conosciamo tutti, questi 5 stelle, ma ci sono anche altri strumenti che si diffondono, questi, chiamiamoli, rating emozionali, in cui vengono fornite non solo qualcosa che mi piace, ma che mi suscita gioia o mi suscita tristezza. Ma la cosa più importante e interessante è tutti questi che vengono chiamati feedback impliciti. Cosa sono questi feedback impliciti? Sono semplicemente l'informazione che un utente ha cliccato su un certo hyperlink o che ha schiacciato un certo bottone, che ha aperto un certo pop-up. E tutte queste informazioni poi vengono utilizzate facendo delle assunzioni. Cioè qui in questa pagina, questa è la pagina di una rivista, io ho cliccato su due hyperlink, che sono quelli che sono un po' più oscurati, e quindi il sistema immagina che questi siano i due articoli che mi interessano tra i quattro che sono in quel momento, quanti sono, sì, tra questi quattro che sono visualizzati qui. È un'inferenza criticabile e vedremo perché. Allora, abbiamo visto che in qualche maniera questi sistemi acquisiscono informazione, ma quali sono i limiti di questa informazione che è stata acquisita? Ci sono dei limiti grossissimi e vi voglio parlare di alcuni aspetti legati alla psicologia e come noi funzioniamo. Il problema è di cosa noi ricordiamo, per esempio, che è importante per capire che cosa noi vorremmo, perché se non ricordiamo, cioè quello che noi vogliamo, che desideriamo, le nostre preferenze, sono determinate da quello che noi ricordiamo delle esperienze passate. Allora, qualcuno di voi avrà riconosciuto la foto di questo signore, questo signore è Daniel Kahneman, premio Nobel, e che tra le tante, tantissime cose che ha fatto, ha definito questa pick-end rule, che dice sostanzialmente che quando noi pensiamo a un'esperienza che abbiamo fatto, la ricordiamo sulla base di alcuni aspetti particolari, cioè non è che ricordiamo tutta l'esperienza, ricordiamo i momenti, come dire, migliori, i momenti peggiori e cosa è successo alla fine. Per esempio, facciamo un viaggio, un viaggio di 15 giorni, alla fine del viaggio siamo arrivati a casa e ci perdono i bagagli, ci ricordiamo questa esperienza come un'esperienza negativa, perché questa cosa del perdito dei bagagli alla fine è molto significativa. Ora, se la nostra capacità di memoria è influenzata da questi segnali, è chiaro che è una memoria imparziale, imperfetta, quindi come facciamo noi veramente a stimare quello che ci piace se ricordiamo malamente quello che abbiamo fatto? Ecco, e questo è già uno degli aspetti che potrei elencare. Ma cerchiamo di capire un po' meglio i limiti dell'acquisizione di questi rating che fanno i sistemi e come influenzano questi poi l'algoritmo. Beh, quanto sono affidabili queste preferenze che abbiamo dato in maniera esplicita, questi rating? Pensateci un po'. Intanto c'è questo discorso che ho appena fatto. Se ci ricordiamo qualche cosa di un film che abbiamo visto magari un anno fa, la nostra memoria potrebbe essere imperfetta. Questo è uno dei problemi. Ma ci sono degli altri problemi molto molto più significativi. Sono una, diciamo, coprono il bagaglio dei possibili item che appartengono a questi cataloghi in maniera, diciamo, non uniforme. Sono squilibrati rispetto a certi prodotti, a certi film, a certi libri. Quindi danno una copertura intanto parziale, ma non è anche uniforme, non è equamente distribuita. Ci sono, diciamo, degli item, pensiamo ai film, pensiamo ai film che sono valutati molto e dei film che non sono valutati per nulla. Quindi questo è un elemento. L'altro elemento è che noi diamo delle valutazioni a questi aspetti, ma le valutazioni sono prive di contestualizzate. Cosa vuol dire che sono decontestualizzate? Magari un libro l'abbiamo letto in vacanza e ci è piaciuto, lo stesso libro, invece durante un periodo non di vacanza, non ci piace, non è adatto. Oppure il libro l'abbiamo acquistato per nostra sorella e allora lì è stato un buon acquisto, ma per noi non lo è. Tutto questo vi sembra poco, ma in realtà, diciamo, la valutazione di queste esperienze, di questi prodotti, dipende moltissimo dal contesto. Quindi il contesto è sparito, abbiamo questo bias incredibile in cui i rating sono fondamentalmente per i prodotti che hanno rating alti, ma non per quelli che hanno rating bassi. Infatti quando vengono mostrate la distribuzione dei rating nei sistemi appunto, diciamo che anche in Amazon oppure in Netflix, c'è una netta prevalenza dei famosi, quando Netflix usava ancora i rating, 4-5, quelli alti. Cioè sembra che tutto il catalogo fondamentalmente sia un catalogo fatto da prodotti buoni. In realtà se uno fa, si dice, se fa un campione random, inizia a prendere degli item e chiede alla gente cosa ne pensi, la distribuzione è totalmente inversa. Cioè gli 1 e i 2 sono la stragrande maggioranza dei rating e i 4, i 3, i 4, i 5 sono sempre molto meno, i 5 sono praticamente inesistenti. Quindi pensate, c'è una macchina che acquisisce queste informazioni ma le informazioni sono estremamente baie, estremamente legate al fatto che non sono un campione ben distribuito e quindi poi fa assunzioni che qualcosa ci piacerà sulla base di questo campione molto molto parziale. E quindi pensate un po' a quello che succede. Ok. Le preferenze implicite, quelle che dicevo prima, le navigazioni. Le preferenze implicite in realtà sono un po' come questa figura, no? Se la guardate da un certo punto di vista è un uccello, se la guardate da un altro punto di vista è una lepre, no? E cosa vuol dire questo? Il fatto che io clicchi su un hyperlink può voler dire che quell'hyperlink è interessante ma potrebbe anche voler dire che sono stato un po' imbrogliato magari da una pubblicità, ho cliccato ma non è una cosa che mi interessa oppure è venuta fuori e io non sapevo neanche come liberarmi ne ho cliccato e lui lo segna come un interesse. Quindi tutte queste preferenze implicite che sono il motore di questi sistemi in realtà si prestano a queste interpretazioni molto molto vaghe. Allora, adesso abbiamo parlato di cosa c'è della benzina che hanno i sistemi. Questa è una benzina molto sporca, piena di impurità, piena di cose strane. Adesso vediamo un po' il motore come funziona. Scusatemi se faccio come dire la lezioncina però mi sembra interessante per quelli che magari non lo sanno capire come funzionano questi algoritmi in maniera molto semplice. Allora, che cos'è che si fa? Che cosa si riesce a fare? Allora, fondamentalmente si è davanti a oggetti di questo genere. Siamo davanti a delle tabelle in cui ci sono utenti, ci sono dei prodotti, in questo caso degli hotel, c'è una descrizione del contesto in cui è stata fatta questa esperienza e poi chiamiamolo questa valutazione. Qui vediamo l'utente 1, l'hotel H301 nel contesto di un viaggio di lavoro è stata data una valutazione equata. Ne abbiamo immaginate migliaia, pensate a booking.com ne ha acquisiti milioni di queste valutazioni e a questo punto c'è un altro set di dati che viene detto test data in cui abbiamo effettivamente gli utenti di hotel e il contesto ma non sappiamo qual è la valutazione e quindi vogliamo fare una previsione cioè bisogna fare una predizione su quella che potrebbe essere per esempio la prima riga del test data quale potrebbe essere la valutazione dell'utente 1 sull'hotel H301 quando viaggia con una famiglia sarà positiva sarà negativa non lo so quello che si fa è guardiamo i dati che abbiamo di training addestriamo il nostro meccanismo e facciamo delle predizioni e vabbè adesso allora cerchiamo di vederlo in una tabella molto molto semplice qui abbiamo i classici John Lucy Eric Dan che sono i nostri utenti e corrispondono alle righe di questa tabella e mentre sulle colonne abbiamo i nostri filmati immaginate che noi vogliamo stimare se l'utente Eric piacerà o non piacerà questo Titanic il target ok dobbiamo capire gli piacerà o non gli piacerà darà una valutazione 5 o darà una valutazione 3 quello che la predizione che viene fatta con questo tecnica che viene item to item collaboration quella usata da Amazon nei primi tempi è quello di guardare dei vicini dei prodotti che si assomigliano per esempio Titanic se lo confrontiamo con Forrest Gump non so se si vede se noi Titanic lo confrontiamo con Forrest Gump e confrontiamo i rating dati dagli utenti vediamo che John ha dato 1 a Titanic e 2 a Forrest Gump lui si è dato 5 a Titanic e ha dato pure 5 a Forrest Gump qui non sappiamo Eric cosa è cosa da John ha dato 3 a Titanic e 3 a Forrest Gump hanno dei rating molto vicini quindi sono chiamati dei neighbor sono chiamati dei vicini stessa cosa per Wall-E magari un po' di meno quindi solo guardando i numeri i dati che abbiamo si possono stabilire delle somiglianze tra i prodotti anche se non guardiamo veramente cosa c'è dentro i prodotti solo dal comportamento delle persone e quindi quello che poi viene fatto viene fatta una stima sulla base di una media pesata insomma viene fatta una media pesata di questi 5 a 4 5 è la valutazione che questo Eric dava Forrest Gump 4 è la valutazione che dava Wall-E siccome sono dei prodotti simili allora probabilmente per Titanic Eric darà qualche cosa che è una media più è vicino a un certo prodotto più la media pesa quel prodotto più è lontano meno lo pesa e quindi qui predice che questo Titanic verrà valutato da Eric 4.53 un altro meccanismo molto simile viene chiamato invece di neighbor utente si guarda se io sono simile a te cioè se io do valutazioni o navigo in maniera simile a quanto navighi tu in questo caso Eric che è sempre il nostro target potrebbe essere considerato simile a Lucy e allora qui in una maniera molto molto semplice si dice beh se Lucy dà a Titanic 5 allora probabilmente anche Eric dà a Titanic 5 e questo è un meccanismo di predizione ora quello che vi voglio far notare è che questo meccanismo di predizione è il modo in cui anche vengono valutati e ottimizzati i sistemi cioè cosa si dice beh allora qui sappiamo cosa Eric ha dato Forrest Gump ha dato 5 se usiamo la predizione cosa prediciamo prediciamo 5 perché stiamo dicendo che la predizione è il valore che ha Lucy e quindi qui la predizione e la realtà sono uguali quindi abbiamo una buona predizione qui invece se vediamo la predizione di Lucy e la confrontiamo con la verità che noi sappiamo c'è un errore di un punto e questo è il meccanismo con cui poi vengono ottimizzati questi sistemi vengono ottimizzati sulla base dei dati che sono stati osservati quindi il meccanismo di ottimizzazione di nuovo dipende da quelle informazioni che gli abbiamo dato di noi e se non gli abbiamo dato un'informazione abbastanza vasta vengono ottimizzati su quelle poche informazioni che gli abbiamo dato e quindi di nuovo c'è questo problema del bias sono altamente biased perché vengono ottimizzati per dire essere corretti su quello che hanno visto ma non assolutamente su quello che potrebbe succedere in futuro e su tutto quello che non abbiamo valutato e quindi tendono anche a creare questa famosa filter bubble questa bolla in cui tutto quello che è stato valutato diventa ancora più come dire suggerito e tutto quello che non è stato valutato né da te né dagli altri rimane escluso e lo rimarrà per sempre e questo è diciamo è uno dei problemi più grossi di questi di questi sistemi di questo creare e creare questa concentrazione delle previsioni bias rispetto ai dati che sono stati acquisiti e quindi questo descrive quello che ho fatto quindi questo è un po' il meccanismo famoso di training and test che forse qualcuno di voi ha sentito parlare cioè come questi meccanismi di machine learning apprendono il loro modello vengono addestrati con dei dati e vengono testati su dei dati che in realtà sono già presenti per verificare se la predizione corrisponde al dato corretto qual è il problema di questo? il problema è che il sistema pensate è in grado in realtà di fare altre predizioni quindi è in grado di predire molti altri prodotti come se ne penseremo ma chi li ha costruiti gli algoritmi non sa se questa predizione è corretta questo è il problema cioè la gran parte delle predizioni non possono essere testate e vengono inseriti in produzione sistemi che non si sa esattamente come risponderanno veramente alle esigenze degli utenti e allora per fare la vera verifica la prova del 9 si fanno quelli che forse qualcuno ha sentito parlare sono i famosi A-B test cosa sono gli A-B test? sono cose di cui noi siamo continuamente immersi e non ce ne rendiamo conto i sistemi che utilizziamo non sono dei reali sistemi univoci Amazon non è un Amazon Netflix non è un Netflix ognuno di noi riceve un Amazon e riceve un Netflix che è diverso Netflix fa continuamente dei test su di noi cioè sviluppa per esempio due sistemi uno viene dato a tutti quelli che vengono da un IP dispari e tutti quelli che vengono da un IP pari ne ricevono un altro allora cosa succede? per tutti quelli che ricevono un IP pari viene mostrato il sistema A e per tutti quelli che vengono da un IP dispari viene mostrato il sistema B e dopodiché loro confrontano qual è che funziona meglio? su quale la gente fa più click fa più visualizzazioni fa più acquisti e dopodiché appunto buttano via quello che non funziona bene e tengono in produzione quello che funziona che funziona bene e continuamente questo viene aggiornato e la scelta delle varianti da testare è comunque fatta da una valutazione off-land di cui dicevo prima quindi i sistemi convergono verso qualche cosa che è determinato da un algoritmo che ha fatto delle predizioni stesse quindi c'è un'autonomia dell'algoritmo che non è solo nella predizione ma è anche nell'indirizzare come questi sistemi verranno testati va bene mi avvio alla ultima parte perché non vorrei essere troppo pedante però è una parte anche questa abbastanza interessante allora immaginate che il nostro sistema ha costruito per ognuno dei prodotti che ha uno score che dice quanto quel prodotto piacerà a Francesco quanto piacerà a Dino e per tutti i prodotti per cui riesce a calcolarlo ma sono molti dei prodotti che stanno dentro adesso bisogna fare una selezione quali sono quelli che veramente mostreremo e qui entriamo con aspetti legati all'interfaccia grafica quindi dobbiamo fare una visualizzazione e la visualizzazione è molto importante è anzi una delle parti più importanti per determinare poi anche i nostri comportamenti quindi Netflix lo sapete tutti ha queste striscette che noi navighiamo e tutte queste striscette hanno una certa caratterizzazione e hanno fatto una scelta ovviamente dopo aver fatto n prove questa non è la prima interfaccia di Netflix Facebook invece ha questo scorrimento verticale ma l'idea diciamo è siccome il media è molto più ristretto c'è un'unica strip che viaggia in verticale invece che in orizzontale e adesso voglio farvi un giochino per coinvolgervi un po' per farvi capire come la manipolazione dell'interfaccia possa avere influenza e tanta allora queste qui sono due liste di raccomandazione la lista 1 e la lista 2 sono dei punti di interesse a Firenze adesso se io vi chiedessi qual è la lista che vi sembra più interessante contenere i punti di interesse più interessanti quanti di voi sceglierebbero la lista 1 alzate la mano ok bene quanti invece sceglierebbero la lista 2 un po' di meno però anche un buon numero adesso se rifacessi l'esperimento però dopo una piccola la manipolazione delle immagini e vi mostrassi adesso la lista 1 la lista 2 con queste immagini adesso voi ovviamente siete influenzati dalla scelta che avete fatto prima adesso forse vi rendete conto che queste due liste non sono poi così diverse no? perché? ho semplicemente mostrato un po' meglio il contenuto della Galleria degli Uffizi e il contenuto del Museo di San Marco di fatto sono due musei diciamo di opere d'arte in cui si trovano delle opere d'arte in entrambi i musei molto interessanti ovviamente gli Uffizi è molto più noto Piazzale Michelangelo è famosissimo però Piazza Santa Croce è forse anche più interessante di Piazzale Michelangelo se io enfatizzo il fatto che ci possiamo andare lì ci sono i mercatini c'è una piazza molto vivace forse riesco a spingere un po' di più le persone ad andare lì stessa cosa per il Duomo Santa Maria Novella di fatto non è che siano due chiaro Duomo è famosissimo però in realtà se uno entra dentro le due chiese si assomigliano molto quindi vedete come manipolando l'immagine io posso manipolare le preferenze delle persone e questo questo è per l'esempio del turismo in realtà dopo che ho calcolato i suggerimenti posso artificialmente modificare o intervenire sulle preferenze ma avrei bisogno di sapere un po' di più ancora sugli utenti sapere per esempio la conoscenza che l'utente ha del posto perché questo ovviamente mi servirebbe per ulteriormente personalizzare l'output e che cosa hanno visitato prima che potrei manipolare la rappresentazione pittorica del posto per favorire certe scelte piuttosto che altre insomma posso lavorare su tante tante scusate tante feature che tante caratteristiche di questi punti di interesse per ulteriormente sviluppare un interesse per una destinazione piuttosto che un'altra ok ho ancora 10 minuti di tempo mi avevate detto che avevo 45 minuti di tempo ok va bene adesso ma non siamo molto lontani vorrei lasciare lo spazio ad alcune domande un'altra cosa che volevo farvi notare è che quando questi sistemi mostrano qualcosa è perché hanno calcolato che questo prodotto questo item è potenzialmente interessante e l'hanno calcolato prodotto per prodotto quindi per ognuno di questi prodotti hanno calcolato uno score il problema è che quando poi questi prodotti sono mostrati insieme allora interagiscono tra di loro nella nostra mente noi iniziamo a fare dei confronti iniziamo a vedere quale di questi è meglio di quell'altro e quindi si possono creare delle situazioni in cui prodotti che anche non sono in realtà interessanti influenzano la scelta per altri prodotti e questa è questa idea del fatto che i prodotti interagiscono fra di loro nella nostra mente adesso vi porterò un paio di esempi mi scuseranno gli psicologi che magari sono presenti qui o gli economisti che sono presenti qui perché volgarizzo semplifico questi aspetti da informatico però noi come informatici poi in realtà ci facciamo i conti perché gli argomenti che dobbiamo costruire sono di fatto dipendono anche da questi aspetti uno degli aspetti famosi è quello dell'anchoring ancoraggio non so se in italiano si dice l'ancoraggio supponiamo che dobbiamo decidere quanto è ragionevole spendere per acquistare una bicicletta da corsa non abbiamo nessuna idea di quanto possa costare una bicicletta da corsa quindi abbiamo il nostro recommender che inizia a farci dei suggerimenti per acquistare la nostra bicicletta da corsa il fatto che il recommender il negozio inizia a mostrare per esempio solo biciclette che costano 3000 euro ci fa iniziare a pensare che oh cavolo ma io volevo spendere 1000 euro 1500 euro probabilmente è troppo poco qui le biciclette costano 3000 qui devo tirare fuori più soldi poi di fatto magari scopriamo che c'è una bicicletta da 2005 e cavolo non fare questa qui e questa bicicletta da 2005 viene immediatamente acquistata perché c'è questo anchoring che è una bicicletta da corsa debba costare 3000 euro quindi questo effetto viene utilizzato spesso e quindi immaginate queste raccomandazioni possono essere fatte in modo per cui anche non so un filmato che dobbiamo acquistare da Apple piuttosto che da Amazon Prime il gioco dei costi può essere fatto in modo tale da favorirci l'acquisto di certi prodotti anche se non li vogliamo solo perché ci sembrano degli affari un altro fenomeno che spesso accade e che completa un po' questo quadro dell'interazione tra i prodotti il fatto è che quando sono state fatte delle valutazioni e torniamo al problema della scelta quando sono state fatte delle valutazioni su quanto noi quale valore noi diamo a certi prodotti se li dovessimo acquistare l'esempio è stato fatto con delle riviste si è chiesto ad un gruppo di persone quanto pagheresti l'abbonamento a Time Magazine piuttosto che a Newsweek ad alcune persone è stato chiesto mostrando solo Time Magazine e mostrando poi solo Newsweek ad altre persone è stato chiesto mostrandogli queste opzioni e chiedendogli quanto tu pagheresti per l'abbonamento a Time Magazine e quello che è stato rilevato è che sempre quando sono state mostrate più opzioni il valore che le persone danno alla singola opzione è più basso perché iniziamo a pensare a quello che perdiamo a non prendere l'altra opzione quindi questo viene chiamato l'opportunity cost quindi il costo perso dell'opportunità persa quindi di nuovo vedete che quando voi viene fatta questa associazione di prodotti vengono mostrati questi interagiscono nella nostra mente e producono poi un effetto diverso bene ora vorrei negli ultimi minuti che mi rimangono parlare di alcuni altri problemi legati all'utilizzo di questi sistemi uno dei problemi che tutti lamentano è quello della diversità ci lamentiamo che ci vengono suggeriti prodotti tutti uguali o molto uguali molto simili questa diversity e quindi si cerca in questo momento di fare in modo che questo non succeda esistono due tipi in realtà di diversità che possiamo controllare quando facciamo questi algoritmi una è la diversità individuale cioè il fatto che a me a te vengano mostrati prodotti di un certo diciamo che abbiamo un certo range di caratteristiche quindi se vado sui suggerimenti per i filmati non mi vengano suggeriti tutta la saga di Guerre Stellari dall'inizio alla fine ma magari uno e magari poi altre cose l'altro aspetto importante è quello della diversità aggregata invece questa è la diversità sulla popolazione quindi che io non riceva magari suggerimenti diversi ma sono gli stessi che riceve Dino a questo punto di nuovo il sistema fa un push fondamentale sulle persone e questo immaginate non per i filmati ma nella politica che ruolo ha noi non ci rendiamo conto che siamo bersagliati da alcune informazioni perché per noi sembrano diverse ma sono le stesse che ricevono tutti e quindi di fatto possono essere di nuovo avere un effetto di manipolazione sulla popolazione intera quindi è molto importante ottenere una diversità aggregata alta cioè che le persone ricevano potenzialmente informazioni diverse e ci sono qui ricerche in abbondanza che stiamo facendo dico stiamo perché io lavoro in questo settore dal punto di vista della ricerca stiamo facendo per diciamo bilanciare ottenere diversità sia a livello individuale sia a livello aggregato un altro aspetto importante è questa equità questa fairness e qui e qui e qui diciamo siamo molto indietro e vi ho già fatto degli esempi di situazioni in cui gli utenti ricevono informazioni di qualità diversa se siamo diciamo degli utenti convenzionali è molto più facile che il sistema sia in grado di dare dei buoni suggerimenti a noi se siamo quella che viene chiamata la black sheep la pecora nera invece è dura che il sistema sia in grado di effettivamente di capire che cosa ci interessa quindi a questo punto abbiamo un sistema che non è fair ad alcuni gruppi darà delle informazioni più accurate ad altri gruppi darà delle informazioni meno accurate e poi vi avevo citato il problema delle IB test quando questi sistemi fanno degli IB test a un gruppo viene dato un certo tipo di informazione un altro gruppo viene dato un altro tipo di informazione e fondamentalmente un gruppo riceve delle informazioni migliori un altro gruppo delle informazioni peggiori quindi questo è un problema grosso ed è grosso perché è insolubile di fatto e qui vorrei appunto farvi riflettere su questo aspetto cioè l'equità e la precisione sono come dire due obiettivi che non riescono ad andare insieme se vogliamo essere precisi cioè se in teoria volessimo dare ad ognuno la migliore informazione non saremmo fair perché il sistema non ha i dati per essere diciamo preciso per tutti nello stesso modo quindi per qualcuno sarebbe più preciso per qualcun altro sarebbe meno preciso e anche da diversità e la fairness non vanno insieme cioè più vogliamo aumentare la diversità delle informazioni più stranamente il sistema diventa non equo qui ho un grafico un po' tecnico ma non vi spaventate questa immagine che vedete sull'asse delle X c'è quella che viene chiamata l'aggregate diversity quindi la diversità dei suggerimenti che vengono dati a persone diverse e invece sull'asse delle Y c'è questa recommendation disparity che è una misura di unfairness più sale più i suggerimenti sono unfair e in tutti gli esperimenti che sono stati fatti più si aumenta la diversità manipolando in modo da avere diversità più si aumenta anche l'unfairness quindi è veramente una coperta piccola se la tiriamo verso la diversità diventiamo unfair se vogliamo essere più fair diventiamo meno meno diversi quindi si combatte con dei problemi grossi che poi ovviamente su certi argomenti sono veramente rilevanti ultimo aspetto la privacy e qui lo sapete tutti usando delle informazioni personali questi sistemi si prestano a a delle manipolazioni e a dei rischi per la nostra privacy rischi che possono essere legati al fatto che appunto i dati che sono stati collezionati possono andare a finire da altre parti che non vogliamo i dati possono essere dianonimizzati questo immagino che lo sapete cioè Amazon non tiene i nostri rating in maniera dicendo Francesco Ricci ha valutato questo però utilizzando altre informazioni qualcuno potrebbe capire esattamente tutte le mie preferenze sulla base di quello ovviamente fare delle altre assunzioni degli altri suggerimenti il sistema e questa è un'altra cosa molto pericolosa voi ne sapete tutto bene questo su Cambridge Analytics può usare i dati per fare delle inferenze su cose che noi non volevamo che lui facesse delle inferenze quindi usando per esempio i rating di Amazon è facile prevedere il sesso della persona o è facile prevedere anche la personalità della persona quindi usando delle informazioni che non sono in linea di principio legate alla personalità con semplici algoritmi di machine learning si può fare delle predizioni abbastanza accurate della personalità di una persona quindi siamo esposti a dei calcoli che nessuno di noi avrebbe voluto che fossero fatti e qui di nuovo c'è tutta un'ampio un'ampia area di ricerca su questi settori che adesso sta diventando sempre più importante perché ovviamente c'è preoccupazione avendo visto cosa è successo in alcuni casi ben noti bene e allora io a questo punto volevo solo chiudere con questa immagine per farvi semplicemente capire che questi sistemi di recommendation che sono lì in quel centro non sono delle cose che sono state fatte per noi per gli utenti finali che stanno sul lato destro ma sono delle piattaforme in cui c'è l'interesse di molte parti per questo vengono chiamati multi-stakehold c'è l'interesse di quelli che forniscono i prodotti che ovviamente vogliono vendere e vogliono anche capire i nostri interessi quindi avere dell'insight sui nostri interessi e poi c'è l'interesse di chi gestisce la piattaforma per esempio Amazon piuttosto che Netflix perché ovviamente loro hanno sviluppato un modello di business legato all'utilizzo della piattaforma e quindi bisogna inevitabilmente quando si costruiscono questi algoritmi tener conto degli interessi di questa di questa di questa rete di utilizzatori che determinano l'evoluzione della piattaforma e tra l'altro direi una cosa anche molto interessante e che ancora è studiata poco è cercare di capire ma dove andremo a finire utilizzando questa piattaforma cioè immaginate che noi adesso Amazon continua a collezionare questi dati a favorirci nell'acquisto di certi prodotti ma tra un anno noi che cosa avremmo acquistato e se avessero utilizzato un altro algoritmo pensate questo è preoccupante noi avremmo potuto comprare altre cose e questo è il problema sotto che quello che noi compreremo nel prossimo anno nei prossimi due anni nei prossimi dieci anni è in larga parte determinato dall'algoritmo che oggi è stato implementato e viene utilizzato e questa diciamo coevoluzione dell'algoritmo e delle nostre preferenze e delle nostre scelte direi è la cosa più preoccupante ma forse anche più interessante che richiede un attento studio e che ancora oggi siamo ignoranti su questo anche noi che li sviluppiamo non sappiamo alla fine quali saranno gli effetti a lungo termine della somministrazione di un algoritmo a una popolazione e con questa diciamo riflessione magari anche un po' inquietante ma reale volevo chiudere e vabbè questo diciamo è un librone che io ho curato e che adesso sta uscendo per springere un'ulteriore terza versione e raccoglie una serie di contenuti tecnici su queste tecnologie ma è giusto per farvi capire che effettivamente è un argomento di largo interesse e di notevole sviluppo ancora tuttora della tecnologia grazie e naturalmente sono prontissimo a ricevere domande da voi provo a farti una domanda ingenua nel senso che tutti noi più o meno che siamo un po' della materia abbiamo qualche idea di questi condizionamenti o di come funzionano anche se non in dettaglio come l'hai spiegato tu io mi chiedo c'è qualcuno che sta pensando a piattaforme di tipo diverso oppure ancora perché anche seguendo queste piattaforme qua non si potrebbe dire poi in base la piattaforma dovrebbe dire in base alle caratteristiche che io sono riuscito a capire da te ti posso proporre queste biciclette se vuoi ci sono altre biciclette io posso mostrartele magari con un meccanismo casuale però sappia anche che la Scott mi finanzia perché mi paga pubblicità qualcosa di più trasparente non si potrebbe avere certo il problema della trasparenza ovviamente anche questo è un problema adesso molto molto studiato si parla di AI trasparente AI responsabile AI intelligenza artificiale però non è banale questo cosa vuol dire essere trasparente pensate appunto che io quello che vi ho mostrato è un algoritmo semplice questo item to item collaborative filtering user to user gli algoritmi che si usano adesso sono molto più complicate ci sono queste deep neural network si usano delle reti neurali ricorrenti si usano degli algoritmi che sono altamente oscuri che molte delle persone che usano non sanno neanche come funzionano e questa è la realtà ma lo parlo anche a livello di scienziati che usano cose che non sanno di cosa stanno usando quindi immaginati tu a spiegare perché la rete neurale ricorrente ti suggerisce questo piuttosto che altro è una battaglia persa ed è stato sono state fatte anche molte analisi anche dal punto di vista della user interface dell'interfaccia cosa siamo in grado di capire cosa apprezziamo cioè perché potresti anche darle le spiegazioni ma quello che si è verificato è che le persone non capiscono le spiegazioni capiscono solo le spiegazioni molto molto semplici per esempio capiscono questo prodotto è scelto dalla maggioranza delle persone cosa è veramente facili quindi arrivare a dare quella trasparenza di cui tu chiedi non è proprio semplice è un desiderio che tutti avremo però poi implementare questa trasparenza non è per niente facile non è tanto di spiegare il meccanismo ma di dire in base al meccanismo che io ho non te lo spiego ti do questa indicazione sulle biciclette però sappi anche che c'è qualcos'altro e quindi se vuoi io dicevo te lo do con un altro meccanismo random ti do chi vende biciclette vicino a casa tua piuttosto che valla che ti dico che anche qualcuno dei venditori di biciclette comunque mi paga la pubblicità certo qualcosa puoi fare qualcosa puoi fare però immaginati Amazon che dice ma sai io ti sto suggerendo questi filmati però tu sappia che io ho un contratto con la Sonic per cui ricevo un tot ogni è chiaro che questo non può non funziona così chi fa un profitto nella vendita dei prodotti non ti può rivelare tutte le loro condizioni per cui fanno dei profitti e come li fanno e su come manipolano la cosa perché non è di fatto sono tutti manipolati cioè questo voglio dire quella quell'immagine finale che vi ho fatto vedere no ho sbagliato volevo fare volevo tornare indietro questa questa qui cioè è reale cioè queste piattaforme sono delle piattaforme come diciamo di commercio sono delle piattaforme in cui ci sono c'è un incontro tra domande offerte e tra un gestore di una piattaforma non possiamo pensare che la piattaforma diventi neutrale o equilibrata e dipende dalla rete delle delle parte sto anche seguendo io alla fine chiedo al mio amico che va sempre in bicicletta e chiedo ma secondo te questa bicicletta è più buona di questa o no cioè non mi fido più della rete questo questo è chiaro cioè è chiaro che infatti ma qui è il discorso allora chi gestisce la piattaforma sa che può giocare fino a un certo punto e quindi si arriva a un equilibrio che è l'equilibrio dovuto al fatto che alcune cose vengono come dire scoperte altre cose non vengono scoperte ma di nuovo è l'algoritmo stesso che lo fa questa ottimizzazione se ci pensi siamo di nuovo manipolati dell'algoritmo che ha capito che se fa quel tipo di suggerimento perde mercato perché le persone non lo seguono ma è sempre un algoritmo che fa questa ottimizzazione è tutto diciamo calcolato dal se lì c'è una domanda io capisco e condivido che laddove c'è un interesse economico chiaramente è molto difficile combattere e contrastare con trasparenza o altro mi chiedo oltre alla consapevolezza da parte dei consumatori e quindi una sessione come quella di questa sera dovrebbe andare in onda milioni di volte fino a che un pubblico molto ampio diventi consapevole di quelli che sono realmente i meccanismi e quindi anche della discutibilità di quello che viene offerto quindi senz'altro c'è questo aspetto mi chiedo nella sua esperienza oltre a far conoscere e quindi a far diventare l'utente sempre più consapevole di questi meccanismi c'è un qualche altro escamotage per rendere edotto il consumatore e soprattutto i consumatori no tolgo il soprattutto perché credo che le vittime siano di qualunque età di qualunque fascia economica e anche di qualunque preparazione culturale quindi sembrerebbe che fossimo abbastanza tutti impotenti mi chiedo è proprio così o non c'è qualche cosa oltre al seminare e favorire la consapevolezza che potremmo fare ma io sono pessimista mi dispiace ma sono pessimista perché un privato cioè alle volte noi ci dimentichiamo Facebook non è lì un benefattore che sta là per farci fare gli incontri con i nostri amici no Amazon non è un altro benefattore che ci permette di fare grossi affari sulla rete queste sono persone senza cattiveria ma sono persone che sono lì in questa piattaforma questa lucida ve lo mostra per fare i loro interessi i loro interessi parzialmente anche dipendono dalla nostra soddisfazione quindi è un po' come in tutte le cose il produttore di macchine non può produrre macchine che non funzionano bene altrimenti poi non le compriamo più e quindi ci deve fornire un servizio che ci soddisfa però in questo caso sono un po' scettico che loro veramente ci seguiranno no l'unica soluzione per questo tipo di problemi è quello che degli attori senza interessi forniscano delle informazioni cioè torniamo al discorso dell'informazione pubblica perché ad esempio io ho lavorato anche con la RAI la RAI ovviamente ha RaiPlay no? RaiPlay non funziona solamente così e c'è stato un dibattito stato coinvolto prima del lockdown a Bologna al Colecom in cui si discuteva come devono essere costruiti i sistemi per la RAI che è un ente che è un fornitore di informazioni e deve fare un servizio pubblico e lì è chiaro che possiamo implementare dei meccanismi diversi perché la RAI è controllata in maniera democratica da una serie di forze politiche da un comitato di controllo e lì forse c'è speranza e quindi parlo della RAI ma parlo di tutti gli enti pubblici in Europa hanno e adesso sono preoccupati da questi meccanismi e quindi stanno interagendo con i tecnici e stanno sviluppando delle loro strategie proprie però il privato ahimè no quindi state attenti quando comprate su Amazon sicuramente i suggerimenti sono come dire utili perché è chiaro che anche loro stanno cercando di fornirci un prodotto che compreremo e quindi in qualche maniera è un prodotto che ha un vantaggio per noi ma bisogna essere molto consapevoli che questo ha un grosso anche vantaggio per loro e quindi dobbiamo fare attenzione a non farci di nuovo condizionare un po' come siamo condizionati della pubblicità siamo esposti alla pubblicità nella televisione alla radio e dappertutto dobbiamo fare attenzione a non desiderare qualcosa solo perché ci è stata mostrata centinaia di volte la televisione questo è un po' il discorso che abbiamo ormai dei grossi monopoli perché chi è che compete con Amazon oggi non lo so io mi ricordo appunto quando è iniziato Amazon che vendiva solo i libri c'erano dei competitor in America c'erano degli altri venditori forti Burns and Robles come si chiama Nobles che aveva anche il sito web sono tutti morti sono tutti deceduti in Italia ci sono ovviamente dei negozi che vendono libri adesso Amazon probabilmente sui libri è molto meno aggressivo di una volta perché adesso gli sconti sui libri lo vedete tutti non sono più come quelli di una volta una volta si comprava su Amazon col 20-30% di sconto un libro adesso non è più così perché probabilmente inizia ad avere anche margini relativamente bassi e quindi la battaglia sul prezzo non la fa però può fare la battaglia sul libro in particolare che ti mostra piuttosto che altri ci sono altri? Io avevo una domanda un suo parere riguardo all'iniziativa privata se comunque con un sistema di suggerimenti di intelligenza artificiale potrebbe comunque avere un aspetto positivo se consideriamo per esempio un sistema di distribuzione alimentare se alla base questa azienda privata sa le preferenze dei propri clienti può mettersi magari d'accordo con il produttore con l'agricoltore per evitare lo spreco alimentare oppure non so anche per come parlavamo di Netflix o di Amazon vedere i clienti cosa vogliono e partire dal prodotto direttamente con le preferenze che hanno mostrato negli anni passati e magari proporre un prodotto che sapranno già insomma che andrà bene che sarà comprato volevo chiedere secondo lei ci può essere comunque un aspetto positivo anche se privato o magari anche applicato nel pubblico non so fa bisogno elettrico no ho capito sì no no sull'ambito esempio della sanità dell'alimentazione ci sono adesso delle nuove iniziative io anche con i miei studenti ho sviluppato dei sistemi di recommendation per l'alimentazione in cui si cerca non solo di suggerire qualcosa che piace ma suggerire qualcosa che è equilibrato rispetto a un'alimentazione equilibrata ho fatto anche degli esperimenti in mensa tu non ne eri ancora ma qualche anno fa e anche che so la folletto quella che produce il bimbi non so se qualcuno di voi quello lì ormai è un sistema networked no? si connette in rete si possono scaricare le ricette sul bimbi e si possono visualizzare si possono eseguire e loro stanno sviluppando dei sistemi di recommendation per suggerire qualcosa da preparare che di nuovo è anche non solo qualcosa che piace ma qualcosa che è equilibrato allora lì c'è c'è meno pressione in qualche misura per suggerire una ricetta piuttosto che un'altra anzi in quel momento diciamo il bimbi non ha interessi a suggerire la ricetta con le lenticchie piuttosto che quella con i ceci piuttosto che la carne quindi non c'è un reale motivo e quindi si possono effettivamente pensare a delle soluzioni che sono che sono effettivamente valide interessanti e utili però in altri settori ovviamente dove c'è di fatto un interesse economico per l'utilizzo della piattaforma e gli utenti accedono alla piattaforma e l'alimentano con le loro dati la situazione è molto più critica e pericolosa c'è una domanda remota da Francesco che forse ha già mezzo risposto e chi sarebbero gli attori senza interessi gli attori nel mondo ideale ovviamente tutti abbiamo degli interessi è chiaro non esiste una persona senza interessi stavo facendo l'esempio della Rai la Rai non dovrebbe avere un interesse perché è solo quello di aumentare il proprio budget ma dovrebbe avere anche una motivazione di quella di distribuire delle informazioni favorire lo sviluppo della cultura in certi settori che sono anche deboli quindi è chiaro che gli interessi ci sono però ci sono degli attori che hanno degli interessi che sono controllati in maniera trasparente o piuttosto trasparente chiaro che la Rai ovviamente sto facendo dei discorsi un po' ingegni è chiaro che non è un attore senza interessi perché poi è controllato dai partiti e quindi i partiti ci sono quelli che sono i partiti al governo in quel momento e quelli che non lo sono al governo quindi questo mondo ideale è chiaro non esiste un attore che non abbia interessi però facciamo un altro esempio l'esempio del turismo cioè chiaro booking.com che usiamo probabilmente molti di noi è un commerciante è un intermediario che fa soldi su queste transazioni tra alberghi e noi se il servizio fosse offerto da un'organizzazione di destinazione per esempio l'organizzazione di destinazione del Trentino uno si aspetterebbe che sviluppi una politica diciamo commerciale equa per sviluppare un po' tutte le aree della regione e questo infatti vent'anni fa quando io ho iniziato a lavorare nei sistemi di recommendation ho iniziato a lavorare a Trento proprio su un problema di turismo è per questo che poi mi è rimasto l'interesse per il turismo e lì la PTI voleva sviluppare questo tipo di attività anche di commercializzazione di fatto oggi tutto questo è scomparso cioè l'attore pubblico non commercializza più ci sono questi di nuovo Booking.com che si piglia non so quant'è la fetta del mercato che avrà lui Airbnb si prende l'altra grossa fetta del mercato e poi ci sono quegli altri attori pure privati che sono quelli che ben conosciamo quindi alle volte si è partiti con iniziativa pubblica ma molto spesso l'iniziativa pubblica è morta in internet per la competizione fortissima di questi attori privati internazionali c'è un'ultima domanda sempre da Francesco che ha un po' di latenza evidentemente sulla chiacchierata ed è una domanda forse che ha già la risposta vogliamo scommettere che se lo faranno ci sarà qualche produttore di lenticchie che proporrà a bimbi di suggerire ricette adeguate in cambio di un ricavo è chiaro che tutto è possibile non possiamo essere ingenui viviamo in questo mondo dove effettivamente appunto a parte le relazioni così personali che potrebbero essere così del tutto generose questi fenomeni sono determinati dagli interessi economici però possiamo limitarli possiamo controllarli in certi settori hanno più rilevanza hanno più peso in altri settori ne hanno meno dobbiamo essere veramente perdere quella ingenuità del ritenere che l'informazione siccome è arrivata da internet che però è ancora così è ancora così volevo ancora chiedere una cosa io sono a conoscenza che ci sono persone proprio che lavorano anche degli amici che lavorano su questo solo sull'analisi dei trend delle preferenze di Amazon per esempio e commissionano poi prodotti sulla base di questi trend per esempio libri che vengono commissionati non perché c'è una cosa da dire ma perché si contattano degli autori che possono più o meno scrivere su un tema che è emerso come preferenza e allora questo mi fa un po' riflettere perché anche alla luce delle cose che ha detto lei su come funzionano i meccanismi di preferenza è proprio un circolo che si autoalimenta in questa formula quindi addirittura il libro certo in quel modo si produce un libro che sicuramente incontrerà l'interesse perché è stato studiato sulla base dei trend però non è un libro che porta un valore aggiunto perché ha qualcosa da dire e ecco questo mi sembra inquietante no no ma lei ha centrato il problema è così insomma è chiaro quel discorso che facevo lì quei suppliers forniscono i prodotti ma beccano questi insights e questo che cita lei sono questi insights sono queste informazioni sull'interesse degli utenti il problema è che questi interessi degli utenti che vengono diciamo estratti dalla stessa recommendation non sono veramente gli interessi degli utenti per fare capire quali sono gli interessi degli utenti bisognerebbe fare delle campagne veramente di ricerca utilizzando un campione ben distribuito facendo delle domande usando le tecniche di statistica tradizionali se si pensa di poter utilizzare questi strumenti come si sutiliscono gli strumenti tradizionali di ricerca di mercato in cui vengono utilizzati i campioni no è sbagliato e diventa veramente il cane che si morde la coda meccanismi di autoamplificazione ma pensate anche una cosa molto semplice è una cosa che hanno studiato all'MIT ci sono dei ricercatori che facevano questo il successo di un item dipende dai primi rating cioè se un item all'inizio viene valutato 5 stelle può andare a come dire a scoppiare esplodere se invece viene valutato con 1 o 2 stelle i primi rating continuano ad averne bassi cioè sembra quasi una profezia che si auto verifica è così è così non è la realtà è il meccanismo dell'informazione che autoalimenta se stessa e che riproduce se stessa ed è molto di quello che c'è lì è così quindi è così anche per le informazioni che girano le bufale che girano e tutto quello che sappiamo molto è determinato da delle condizioni iniziali che non rappresentano la realtà e che poi in realtà diventano la realtà una delle persone che per l'Italia ha firmato il manifesto di Vienna ci dici due cose su questo su lo scopo del manifesto e se ha senso se se si sta facendo qualcosa proprio verso questa direzione sì diciamo che il manifesto di Vienna è nato diciamo l'anno scorso da un gruppo di studiosi di ricercatori soprattutto in ambito informatico ma in realtà con ricercatori di varie discipline che proprio ha riconosciuto i rischi di questa società di informazione basata anche su questi algoritmi automatici dicendo dobbiamo prendere coscienza dobbiamo dire al mondo che queste cose ci sono dobbiamo reagire dobbiamo fare in modo che le cose non vadano in questo modo quello che adesso stiamo facendo per esempio è fondamentalmente informazione ogni mese c'è un seminario che viene fatto online viene distribuito vorremmo far partire anche una rivista scientifica su queste tematiche è però legato sempre all'informazione stiamo ancora cercando di capire se è un'informazione che è rivolta soprattutto al settore diciamo degli esperti o deve diventare anche una informazione divulgata a tutti però è un po' questo prendere le responsabilità capire che abbiamo una situazione pericolosa in cui anche dei diritti fondamentali possono essere messi in discussione e dobbiamo reagire dobbiamo fare qualche cosa non possiamo aspettare voglio dire che Amazon faccia quello che gli pare grazie a voi per l'attenzione grazie